Quest'anno il mercatino di Natale in piazza 20 Settembre, fulcro del Natale in città del comune di Pordenone, sposa la promozione del territorio, senza dimenticare la solidarietà con l'altro Natale, che lo affiancherà il 7 e l'8 dicembre. Dalle 21 casette, 11 sono a carattere enogastronomico, con degustazione e somministrazione di prodotti tipici, una proposta realizzata assieme a Sviluppo Territorio e Ascom, che ha subito incontrato il gradimento dei cittadini. L'assessore comunale Bruno Zill. Credo che quest'anno siamo riusciti a mettere insieme un'organizzazione che possa valorizzare soprattutto i prodotti del territorio, in particolar modo quest'anno avremo tutta una serie di casette che offrono quelli che sono i prodotti, sia dal punto di vista eno e gastronomico. Credo che questo sia un momento importante per la città, che coinvolga un po' tutte le attività, ma soprattutto abbia la capacità di rivitalizzare quello che è il centro storico. Quest'anno abbiamo la possibilità di prolungare questa iniziativa fino il 6 di gennaio. È un'opportunità che viene offerta alla città, in seno a quella che è l'organizzazione di tutte le attività del Natale, che permetteranno anche l'ultimo giorno dell'anno la possibilità di fruire la piazza e contestualmente avremo anche tutte le attività enogastronomiche presenti. Credo che questo sia un elemento innovativo, che il risultato è stato anche grazie, oltre all'amministrazione comunale, sviluppo e territorio, ma anche a tutte le associazioni che concorrono in questa iniziativa del Natale. È un fatto importante per la città, perché in questo modo riusciamo a fare sistema, a valorizzare la città e valorizzare il suo territorio.